Sindaco Altitonante, 100 giorni da quando si è insediato in comune, da quando è diventato sindaco di Montorio Alvomano, cosa avete fatto in questi 100 giorni? 100 giorni intensi, entusiasmanti, drammatici, perché siamo stati colpiti dal Covid pesantemente, il mio pensiero vale 12 vittime di Montorio, ma ne siamo usciti, ne siamo usciti bene grazie alla collaborazione di tutti i cittadini montoriesi. E credo che siamo diventati anche un esempio per la provincia, sul tracciamento, i test, oggi è un esempio concreto di quello che sta accadendo con la riapertura delle scuole. Ma in 100 giorni abbiamo fatto anche tante azioni concrete, delle risposte che i cittadini di Montorio aspettavano da anni, dall'anello della pista ciclabile all'interno della città di Montorio, la riqualificazione dei giardinetti e lo sblocco della ricostruzione. Montorio è l'ultimo paese in Italia per la ricostruzione 2009, abbiamo studiato, abbiamo mandato delle comunicazioni ai progettisti che hanno tempo fino a marzo per presentare i progetti e abbiamo già definito un cronoprogramma di ricostruzione che porterà Montorio ad avere una ricostruzione per circa 15 milioni di euro all'anno al posto di circa... Grazie a tutti!